Padre Tin, Santa Maria della Messa Com'è bello leggere ancora i testi della Santa Messa Terridentina Che non hanno questi strani pudori, la parola demone è stata e purata Sembra quasi una purazione come succede all'est Della liturgia contemporanea di Satana, del demonio, non si parla più Quale pericolo per le anime invece, cari fratelli, guai a noi non avere la salutare paura dell'inferno Ecco, i miei cari, allora, bisogna sempre vedere questo per tutti noi in ogni contesto storico Non ha importanza se ci sono i saraceni o no Questa è un'espressione particolare della schiavitù C'è però un'espressione, per così dire, strutturale Insita in ogni uomo della vera schiavitù La più tremenda, spaventosa schiavitù Nei confronti della quale la schiavitù politica è qualcosa, per così dire, da ridere Anche se qualche volta è tragica È la schiavitù interiore, il peccato, che è il travaglio dell'anima Il peccato è l'unica vera schiavitù, sorgente di altre schiavitù Vedete poi quanto si calpesta la legge di Dio, la legge naturale La dignità dell'uomo, come si suol dire Tutto questo scaturisce, non già come vaneggia La superficiale superstizione, teologia della liberazione Proprio perché è tutta falsa nei suoi intenti teologici Non sta il peccato nelle strutture È una banale, infantile proiezione delle nostre colpe all'esterno Non ho colpa io Hanno colpe capitalisti, sfruttatori e via dicendo No, lo sfruttatore, il demonio, sta nell'anima mia Di me che sono ancora nato nel peccato E che non sono stato liberato dal peccato dell'origine Solo grazie a Dio che mi ha lavorato nel santo battesimo La schiavitù non è nelle strutture Ci sarà anche nelle strutture Ma parte dal cuore dell'uomo Che inquina tutto quello che esce dal suo cuore A sua volta inquinato Il Salvatore ce lo dice con estrema chiarezza Che non dobbiamo cercare, come i ferisei La teologia della liberazione più meschina e primitiva del fariseismo Non dobbiamo cercare il male e il bene nelle storinità Nelle strutture Nelle colpe addossate ad altri Il male sta nell'anima nostra Meditiamo spesso su questo fatto della schiavitù interiore Schiavitù avvilente, schiavitù umiliante Pensiamoci ancora In chiave dell'insegnamento di Sant'Omaso d'Aquino Rispetto alla pace dell'uomo con Dio e con se stesso Vedete, Sant'Omaso dice sempre che l'uomo non può essere in pace con se stesso Se non è a Piemonte ancora in pace con Dio La pace con Dio garantisce la pace interiore dell'uomo Inutile cercare la pace per l'uomo o addirittura per tutta la humanità Se l'uomo, la società, non è riconciliata con Dio Quindi, anzitutto, riconciliazione con Dio per avere la pace interiore Per tutta la pace con Dio L'ordine interiore dell'uomo è il regno di Dio nell'uomo Perché Dio ha creato l'uomo come ordine Questo regno di Dio nell'uomo è crollato Si è sfasciato con il peccato Ecco la schiavitù Schiavitù che consiste nel fatto che l'uomo Che data immagine e somiglianza del suo creatore Padrone di se stesso Delle sue forze interiori Della sua affettività Della sua sensibilità Della sua istintualità Padrone di tutto il creato L'uomo è divenuto schiavo di se stesso Schiavo degli istinti Schiavo degli affetti Schiavo dei sentimenti Schiavo persino delle cose esterne Così che l'uomo non possedeva più le cose Ma le cose possedevano lui Come già dicevano gli antichi stoici Con molto realismo Possedere le cose senza esserne posseduti Ecco la difficoltà Nella nostra stessa anima Si radica la tendenza Non a possedere, a dominare Ma a essere posseduti dalle cose Pensate all'invidia sociale Che è l'anima delle nostre forze politiche di sinistra Si radica proprio in questo Cioè nell'essere posseduti dalle cose Vedete, la proprietà consiste nell'affermare La dignità dell'uomo patrone delle cose L'invidia significa essere schiavi delle cose Quindi guardiamoci da questa vera schiavitù Che consiste nel rassuggettare l'uomo Alle cose esterne E nell'ambito dell'uomo stesso La parte superiore, egemonica Cioè dominante Come dicevano già gli stoici La parte genonica della parte inferiore Della parte istintuale Della parte somatica, non cattiva Capitemi bene Che a questo punto si leva sempre Il grido Ecco i cattolici che sono dei manichei Non siamo dei manichei Il Signore ha creato tutte le passioni Le concupiscenze L'irrascibilità Entrambe sono buone Anche l'irrascibilità Si è detto con buona pace Dei nostri pacifisti Che sono molto manichei Nella sfera dell'irrascibilità Mentre non lo sono in genere Per nulla In quell'altra sfera Ancora più pericolosa Che quella della concupiscenza Strane queste parzialità Cari fratelli Allora bisogna dire Che tutte le passioni Del concupiscibile Ed irrascibile Sono buone Ma si sono rivoltate contro l'uomo Che cosa bisogna fare allora? Bisogna ricondurre l'uomo all'ordine Chi restaurerà cari fratelli? Mi piace quella parola usata Anche dal cardinal Ratzinger Per quanto concerne la Santa Chiesa di Dio La restaurazione ci vuole Non solo della povera Chiesa Devastata dal modernismo Ma ci vuole anche La restaurazione delle nostre anime Del regno di Dio E della monarchia di Dio Nelle nostre anime Tramite la grasse santificante La restaurazione dell'ordine Cioè la liberazione dell'uomo Della schiavitù del peccato Voi direte Mio padre Com'è possibile che il peccato Costituisca schiavitù Se il demonio non può essere schiavo Della sua carnalità Dato che lui non è carne Né istinto Né passioni Né nient'altro Il demonio è forse libero Nonostante il suo peccato E no cari fratelli Questa è una cosa interessantissima E non voglio abbandonarmi A spiegazioni protiane O neoplatoniche Ma capire che c'è una specie Di affinità partecipata Tra la superbia E i peccati carnali Ma capire che c'è una specie